Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Questa è la terza parte dell'intervista che ho fatto col professor Corrado Malanga. In questa terza parte si parlerà progetto MKUltra, controllo mentale, addotti oppure esperimenti militari. Ho anche delucidato al professore le mie ricerche che sto facendo con un elettroencefalografo, con un misuratore di campo, un analizzatore di spettro e un generatore di frequenze. Buona ascolta amici. Ti pensi, ma andate a fanculo tutti, le tasse non le paghi più e scopri che non c'è nessuno che ti dice niente. È vero. Cioè, te sei sempre il responsabile della tua vita. È vero. È come se vogliono portare la popolazione a pensare solo in un determinato modo. Questo si chiama processo di globalizzazione ed è in atto da quando esistono gli dei. Perché la religione è il primo momento sistemico di globalizzazione. Tutti devono pensarla in uno stesso modo e adorare gli stessi dei, se no non ci mettiamo d'accordo. Dopodiché, dopo che tutti abbiano votato per lo stesso partito, che ce n'è uno solo, che abbiano adorato gli stessi dei, che ce n'è uno solo, allora arrivano gli dei e scendono sulla terra. Non prima. Perché prima ci sarebbero due fazioni. Ammetti che i comunisti sono miscredenti e gli americani sono cattolici. Arrivano gli dei che fanno vedere che sono cattolici e i comunisti si incazzano. Succede casino. Si perdono le vite umane, si perdono delle mucche da mungere. Allora prima bisogna far diventare comunisti americani tutti uguali. Poi arrivano gli dei che sono d'accordo e quindi non c'è nessuna guerra, perché la guerra non è necessaria. La guerra ti fa morire le mucche da mungere. L'alieno non è scemo. Il padrone, l'alienato, sa che se distrugge e uccide i propri sudditi, nessuno gli farà più da mangiare. E' vero. Ma dalle sue ricerche relative al fatto degli uditori di voci, degli addotti, lei pensa che un alieno possa venire sulla Terra e dare fastidio a queste persone? Oppure potrebbe essere anche una sorta di tecnologia che crea questa suggestione per creare l'alibi? Da questo punto di vista questa è una teoria che è proprio la teoria di Persinger o la teoria di McNeil al massimo, di Persinger di più. Cioè è la teoria dei disinformatori americani, i quali ti dicono gli alieni ci sono e sono buoni, quelli che fanno i rapimenti sono i militari cattivi. Ed è un tentativo di depistare l'attenzione sul fatto che gli alieni ormai ci hanno completamente massacrato. In realtà, ahimè, al di là di tutte queste operazioni, ci rimane comunque la fondamentale analisi della percentuale isotopica differente. Cioè i microchip sono fatti di roba che non viene da qui. E su questo non c'è un bravo di dubbio. Dalle sue ultime ricerche relative ai campi elettromagnetici o relative a queste presunte armi o tecnologie che vengono utilizzate attraverso i satelli di spia o attraverso le scie chimiche, avete riscontrato qualcosa di tutte le notizie che si dicono tramite la rete? In che campo? Sia nel campo di patologie relative alle scie chimiche che sia nel campo in arma d'energia diretta e patologia dell'arma d'energia diretta. No, io credo quello che si evince che si evinceva dai risultati delle ipnosi regressive condotte sui soggetti addotti si evinceva che i militari avevano una tecnologia che permetteva di viaggiare nello spazio-tempo e quindi con tecnologie estremamente raffinate e anche non tanto come quelle aliene ma parecchio raffinate potevano utilizzare viaggi spazio-temporali per governare e per tentare di modificare l'attuale presente per ottenere un futuro differente. In questo contesto la manipolazione delle linee spazio-temporali avevano come scopo l'utilizzo della parte animica cioè di quella parte animica che si perde quando il soggetto muore. In futuro si vedevano descritte delle macchine bioniche dentro le quali c'era una parte animica che non era consapevole e cosciente di quello che succedeva ma che veniva quindi attraverso questa macchina bionica utilizzata sia perché la macchina bionica faceva delle cose sia perché l'energia interna era ancora lì e poteva essere utilizzata. Ho capito. Avrà delle nuove ricerche da fare in questi giorni? Sto finendo di mettere insieme la bibliografia per scrivere l'ultimo articolo che devo scrivere che sarà Evideon 3 dove faccio vedere come la presenza del fotone e dell'antifotone entangled tra di loro cioè intimamente legati tra di loro ha mostrato solamente una parte dell'universo mentre l'altra parte dell'universo da un punto di vista quantistico matematico e fisico perfettamente correlata è legata al fatto che non esiste nessun principio di indeterminazione di Heisenberg ma la presenza dell'indeterminazione di Heisenberg dipende dalla mancanza della nostra consapevolezza e di come l'universo sia veramente olografico e virtuale e di come noi si sia i creatori di questo universo che esiste solo nel presente dove non c'è il passato e non c'è il futuro dove il paradosso di Olbert non ha più senso dove la disuguaglianza di Bell Bell è un matematico che a un certo punto ha detto che certi parametri devono essere collegati tra di loro entangled come dicono gli americani insomma correlati tra di loro quindi se io faccio la misura da qualche parte su una certa cosa questa misura mi influenza sicuramente in qualche modo un'altra cosa ma giunge a dire che questo è vero solamente nella realtà reale ma nella realtà quantistica questa disuguaglianza di Bell non è correlata io credo di aver trovato anche il perché perché in realtà è correlata ma è correlata solo se il fotone non viene visto come un oggetto ma come due oggetti insieme che sono il fotone e l'antifotone allora in quel contesto il paradigma di Bell cade o meglio regge anche nella fisica quantistica quindi è la matematica è la fisica che ci dice che esiste l'antifotone non è che sono io che mi sono svegliato una notte solo che poverini i fisici non l'hanno capito o meglio non l'hanno voluto capire perché nell'equazione di Schrödinger c'è una radice quadrata la radice quadrata a un certo punto come nella formula di Gordon Klein per chi è un fisico sa di che cosa sto parlando la radice quadrata prevede per i bosoni i fotoni sono bosoni due soluzioni perché la 4 è uguale a 2 per 2 oppure a meno 2 per meno 2 il che vuol dire che per Gordon Klein avrebbero dovuto esistere due cose cioè la funzione d'onda del fotone e la funzione d'onda dell'antifotone con un'energia negativa che andava indietro nel tempo invece Gordon e Klein hanno detto eh sì beh però insomma il risultato negativo non ne teniamo conto perché non ha nessun significato e così si sono tagliate le pale da soli certo che cosa ne pensa del progetto MK Ultra e delle diciamo delle loro forme di stato di ipnosi che potrebbe essere utilizzato anche per creare una sorta di criminalità una sorta di manciuriano le carte sembrano identificate col Freedom of Information Act americano cioè con quella legge che ti dice che se te hai le coordinate di un documento segreto ne puoi chiedere la declassificazione e gli americani ti danno la declassificazione cioè ti danno il documento ma tutto dipinto di nero quindi tecnicamente hanno trovato il sistema comunque per non farti vedere le cose bene alcune di queste carte comunque si evince che la ricerca del Mind Control MK Ultra è terminato da tempo perché e io credo che sia abbastanza vero perché uno potrebbe pensare no ti faccio faccio un documento finto faccio credere che sia vero faccio credere che sia classificato e faccio finta di averlo trovato perché gli americani funzionano così sono dei bambini in questo giocano così tu trovi questo documento che era segreto lo tiri fuori e dici vedi gli americani le MK Ultra quindi in realtà fanno vedere che non c'è più ma in realtà continua ecco io credo che sia veramente terminato il sistema MK Ultra perché gli americani anche se sono solitamente abbastanza poco coscienti di sé abbiano capito che quella non è la strada cioè si può tentare di mettere in ipnosi una spia russa per fargli fare chissà che cosa si può tentare di mettergli un microchip nel cervello per fare il controllo della consapevolezza e della coscienza cosa che hanno tentato ci sono i brevetti su internet ma hanno già capito che non si può fare niente perché la coscienza te ce l'hai te la tieni e nessuno te la toglie mai mai è vero è vero è vero io a questo punto la ringrazio di nulla per questa sua spiegazione molto tecnica e spero di risentirla oppure di avere la possibilità di effettuare delle ricerche oppure delle analisi insieme sia da Roma che da dal posto dove sta lei o dall'università dove sta lei io dico questo io dunque a ottobre del 2017 mi sembra vado in pensione o del 2016 vado in pensione finisco finisco di scrivere l'ultimo articolo e video e poi non mi vedete più perché me ne vado fuori dall'Europa allora la devo sfruttare prima che va in pensione per quanto possibile sia va bene la ringrazio tantissimo di nulla spero di risentirla a presto a presto arrivederci arrivederci amici abbiamo finito la terza parte ed ultima parte della prima intervista radio web che ho fatto sulla mia radio Springer Emiliano Babilonia e l'intervista l'ho anche pubblicata sul mio canale di Youtube Angeli Gustoti MK Ultra Italia come potete vedere le mie ricerche che delucido anche a molti esperti come il professor Corrado Malanga i miei test che effettuo con un elettroencefalografo con un misuratore di campo con un analizzatore di spettro e un generatore di frequenze anche in gabbia di Faraday o camera anecoica arrivano a un risultato e finora le mie ricerche sono riuscite ad arrivare a un punto plausibile che fa capire che l'interazione della frequenza della corrente alternata o delle frequenze di impulso sparate nel cervello sul nostro corpo sia attraverso i condotti uditivi sia attraverso le frequenze cromatiche all'interno degli occhi e sia all'interno delle frequenze trascraniche sparate dai campi elettromagnetici nel cervello creano una sorta di ipnosi narcolessia e blocco e rallentamento delle capacità celebrali e come se dormiamo ad occhi aperti un saluto amici di Emiliano Babilonia grazie a tutti Grazie.